Il famoso civico 29 di via Fontesecco sarà abbattuto, è l'edificio che si trova sotto al ponte Belvedere, anche questo da buttare giù. Il RUP dell'opera, l'ingegner Mario Di Gregorio, ha scritto ai condomini comunicando che il progetto prevede la demolizione dell'edificio. Nella comunicazione del RUP si legge pure che con l'approvazione del progetto definitivo sarà a posto il vincolo preordinato all'esproprio. Nel frattempo sarà determinata l'indennità di esproprio aspettante a tutti i proprietari, prediligendo la permuta di immobili del comune di valore equivalente. Gli inquilini potranno dunque scegliere se ricevere l'indennizzo o l'abitazione equivalente. David Roselli è un inquilino del civico 29. Non è stato un fulmine a Celsereno, spiega. Nella riunione con l'Ater avevamo capito che i tempi sarebbero stati stretti. Tra l'altro io sono stato convocato già martedì prossimo dal comune. Per me questa è una buona soluzione. Vivere in quegli appartamenti era diventato difficile da tempo. Calcinacci che cadono, area nel degrado, cantiere sempre aperto. Era anche impensabile di poter conciliare un cantiere sopra le nostre teste con la permanenza nelle case. Da quello che filtra, pochi starebbero optando per la monetizzazione e indennizzo delle case. Quasi tutti sarebbero orientati per un'abitazione equivalente di proprietà del comune. Quest'ultimo già avrebbe una lista sommaria da proporre, che sarà incrementata nei prossimi giorni. Certo, da parte degli inquilini, come sottolinea lo stesso Roselli, c'è un po' di rammarico per i tempi. Undici anni non sono pochi. Attraverso la stessa nota, l'amministrazione comunale dà formalmente avvio al procedimento relativo alla progettazione del nuovo ponte Belvedere. Come si sa, attorno al ponte Belvedere sono nati diversi comitati. Uno è guidato dall'avvocato Gianluca Museo, che aveva chiesto formalmente al comune di procedere all'abbattimento del ponte e solo quando si sarà in grado di far partire subito la ricostruzione, per non far passare ancora altri anni.